Giorgia non cede alle pressioni. Voteremo solo i temi condivisi. I sondaggi lo accreditano infatti di un consenso ampio e trasversale. Condiviso da elettorati molti diversi. L'indicazione è chiara. L'ex presidente della BCE rappresenta una figura che ispira fiducia e autorevolezza. Può essere l'uomo in grado di fare la sintesi di istanze e identità diverse. È la rilevazione di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera fotografare la percezione che gli italiani hanno in questo momento di Draghi. La maggioranza dei cittadini, il 60%, pensa che un governo di alto profilo guidato da una personalità di livello internazionale sia la giusta strada da percorrere. Una convinzione sposata da cittadini di tutte le convinzioni politiche. Visto che il consenso non scende mai sotto il 50%. In particolare tra chi vota PD il gradimento al governo Draghi sale all'80%. Tra gli elettori di Forza Italia raggiunge il 78%. O l'81% tra le altre liste di centrosinistra. Gli elettori dei 5 Stelle lo promuovono con un buon 55%. Il dato più sorprendente è, però, il 60% dei consensi che Draghi ottiene tra gli elettori di Fratelli d'Italia. L'unico partito che finora ha annunciato che non voterà la fiducia all'ex governatore di Banca Italia. Ultima la Lega con il 51%. Una percentuale che comunque significa che più della metà degli elettori salviniani vede di buon occhio questo esperimento. Il sondaggio indaga anche sul modo in cui i leader politici hanno gestito la crisi. Chi esce meglio da questa fase? Il primo è Giuseppe Conte con il 28%. Seconda Giorgia Meloni con il 10% e terzo Matteo Salvini con il 9%. Su chi esce peggio non sembrano esserci molti dubbi. Matteo Renzi. Secondo il 48% degli italiani. Un altro risultato sorprendente visto che il merito dell'operazione Draghi ricade largamente sulle sue spalle e sui suoi azzardi politici. Secondo il sondaggio Ipsos, quasi un italiano su 3 il 28% degli intervistati vorrebbe un governo sostenuto da tutti i partiti. Il 13% vorrebbe un governo formato da tutte le forze politiche eccetto il M5S. Mentre il 9% vorrebbe la conferma della maggioranza uscente e l 8% auspica la formazione della cosiddetta maggioranza Ursula, PD. M5S. Forza Italia. Italia viva e liberali. Grazie a tutti.